...per questo scelto la mia libertà. Io parto per Talcusta col volo delle tre... Roberta, apri, cara? Ma cosa vuoi? Perché insisti? Ma perché ti amo, cara. Perché sono tuo marito. E perché ho diritto di entrare, Roberta. Avanti, non ricominciare. Sono tanto stanca. Domani mattina devo alzarmi presto. Roberta, apri. E' meglio che apri tu, Roberta. Perché io sfascio tutto. No. Mi sei rotto l'osso dentro.